Fin da subito ho trovato veramente un clima molto 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 conviviale, i rappresentanti si sono resi disponibili subito ma non solo dal punto di vista didattico. Sono stati molto disponibili anche nei giorni precedenti, nel senso che si sono creati questi gruppi Whatsapp e loro ci hanno aiutato anche con l'immatricolazione, sono stati veramente molto disponibili nei nostri confronti e ci hanno aiutato un po' in tutto quanto il nostro percorso fino ad oggi all'Open Day. Grazie